Salve a tutti, vi parlo Unicornat007, non posso gridare perché sono in un hotel la sera. Comunque oggi sul mio iPad vi farò vedere tutti i prodotti Apple. Musica d'attesa. Ok, iniziamo, se mi sentite bene, se no. Questi sono i prodotti Apple. Allora, quali gratis sono? Uno trova il mio iPhone, che in pratica vi permette di trovare il vostro iPhone se l'avete perso, oppure c'è anche trova il mio iPad. Se lo perdete lo potete anche resettare così gli altri non possono vedere il vostro iPhone. Poi c'è iBooks, dove potete leggere i libri digitali. Adesso io vabbè al Piccolo Principe perché era un libro che ho letto con la scuola, perciò mi è piaciuto. Poi c'è il podcast, dove potete scaricarvi tutti i podcast che sono questi già fatti, cioè programmi TV, pezzi di programmi TV. Vabbè, poi ci sono trova i tuoi amici, i miei amici, sì, dove vi registrate ed è come un social network dei prodotti Apple. Poi c'è Remote, che è come un telecomando, che collegandosi a un Mac potete azionare oppure spegnere la musica. Poi c'è i Utility Airport, dove potete controllare tutti i dispositivi che creano la rete Apple. Poi c'è iTunes Su, dove potete aiutare nell'università. Ad esempio ci sono alcuni software che vi aiuteranno nell'università, tipo i corsi avanzati di scienza o matematica. Poi c'è Apple Store, che adesso lo ingrandisco, ecco, dove potrete vedere tutti i prodotti Apple. E basta, poi c'è uno che ho comprato da App Store, che si chiama GarageBand. Che è molto bello dove voi potete suonare qualcosa, ad esempio con la chitarra, però adesso non ho alzato il volume. Ok. Poi c'è i foto, che è questo più in basso, che sto coprendo con il mio dito, dove potete ritoccare le vostre foto, dove potete selezionare le vostre foto, migliorarle o altro. Poi per il lavoro c'è Pages, uno dei migliori notebook, diciamo, per iPad. Che vi tiene anche i conti, ecco, in pratica. Poi c'è iMovie, che è questo qui in alto. Messo a fuoco. iMovie, che vi migliora foto e video, potete anche fare qualcosa con questi, tipo migliorarli o eccetera. Poi c'è Numbers. E con questo io credo di aver finito, perché altri prodotti non ce ne sono. Grazie per la prossima con i prodotti Apple Unicorno 007. Grazie. Grazie a tutti.